Ferragosto in zona gialla, tre regioni pronte a salire per fascia di rischio, terapie intensive che sfiorano il 10% di occupazione in Sardegna e Sicilia, segue il Lazio, si preparano anche Liguria, Toscana e Puglia, nuovi focolai soprattutto nei luoghi di villeggiatura, fra 48 ore scatta il Green Pass e il governo lavora all'obbligo anche su treni e aerei. Il dolore del Libano un anno fa, l'esplosione al porto che devastò la città e causò 207 morti, 12 mesi dopo le vittime chiedono ancora giustizia e il paese attraversa la peggiore crisi economica e politica degli ultimi 30 anni, l'appello di Papa Francesco che chiede al mondo gesti concreti per i libanesi stanchi e delusi e mio desiderio aggiunge venire a visitarvi. Addio allo scrittore operaio, è morto Antonio Pennacchi stroncato a 71 anni nella sua casa a Latina, premio strega nel 2010 con Canale Mussolini, ribattezzato il fascio comunista per il suo attivismo in politica, da ragazzo col movimento sociale ma poi nelle file del partito comunista. Buongiorno a tutti voi, bentrovati al TG2000, in apertura dunque la corsa estiva del coronavirus in quella che si teme come la quarta ondata nei giorni più intensi delle vacanze, col turismo appena ripartito, tre regioni in bilico pronte a cambiare fascia di rischio, la soglia critica, il 10% di occupazione in terapia intensiva, Sardegna, Sicilia e Lazio sull'orlo di raggiungerla da Ferragosto. Federico Plotti Stabile ma ancora preoccupante il numero dei contagi, ieri oltre 4827 i decessi. In calo però l'indice di positività, cioè il rapporto tra test processati e nuove infezioni riscontrate, 2,3%, lunedì era decisamente più alto, 3,8%. Cresce lenta ma inesorabile la pressione sulle strutture ospedaliere, con ingressi in aumento sia nei reparti ordinari che in quelli di terapia intensiva. E proprio la crescita delle ospedalizzazioni unita al diffondersi della variante delta potrebbe provocare il cambio di colore di alcune regioni, Lazio, Calabria ma soprattutto Sicilia e Sardegna rischiano di svegliarsi lunedì prossimo in zona gialla. Queste ultime due sono ormai vicine al 10% di occupazione dei posti in rianimazione e al 15% nei reparti Covid, la soglia fissata dal governo con l'ultimo decreto oltre la quale si cambia colore. Il picco di questa quarta ondata è atteso per Ferragosto e tra le ipotesi al vaglio del governo anche la possibilità di istituire proprio in quei giorni zone rosse locali per limitare al massimo le occasioni potenzialmente pericolose ed eventuali assembramenti. Nel frattempo procede a pieno ritmo la campagna vaccinale, poco meno di 70 milioni le dosi finora somministrate, oltre 33 milioni gli italiani completamente immunizzati, il 60% circa della popolazione sopra i 12 anni. E resta bloccato il sito della Regione Lazio, fermi i sistemi informatici bersaglio di un attacco internet in tilt, la piattaforma per le prenotazioni delle prestazioni sanitarie, indaga l'antiterrorismo, sarebbe arrivata una rivendicazione su una piattaforma per pirati internauti, al vaglio anche un fantomatico riscatto da 30 mila euro. L'allarme della ministra Lamorgese che al Copasir dice fenomeno in crescita, oggi ascoltata, la vedete anche il numero uno dell'intelligence italiana, Elisabetta Belloni, governo al contrattacco, approvato il decreto che istituisce l'Agenzia sulla cybersicurezza, stanziati 620 milioni di euro per proteggere la rete internet del nostro paese. E nell'agenda politica, dopo il via libera alla riforma della giustizia, c'è il decreto sulla pubblica amministrazione dopo l'ok del Senato, il testo ora alla Camera, mentre sono ore decisive sulle nuove misure anticontagi, domani cabina di regia e poi consiglio dei ministri. Augusto Cantelli. La votazione è chiusa. Maggioranza 227, favore di 396, contratti 57, la Camera approva. E alla fine il via libera è arrivato, e anche l'ampia maggioranza richiesta. Dopo la Camera la riforma del processo penale a settembre passa al Senato. Per il Governo si tratta di un risultato di grande valore, non soltanto politico sulla riforma, infatti, sono legati i soldi del ricoveri plan dell'Europa. Soddisfazione anche per la tenuta della coalizione di governo, che soprattutto nella giornata di ieri ha avuto momenti ad alto rischio, spaccatura in un'aula comunque molto tesa. La decisione dei pentastellati di votare a favore della riforma è stata espressa proprio dall'ex guarda sigilli. Buona fede. E non intendo rispondere a nessuna delle provocazioni che sono state fatte, perché la giustizia non è una questione personale. Si va verso la pausa estiva dei lavori parlamentari. Ultimo appuntamento, il decreto della pubblica amministrazione. Domani forse il voto di fiducia. A Palazzo Chigi, invece, governo al lavoro per gli appuntamenti di domani sul Green Pass, prima la cabina di regia, poi il Consiglio dei Ministri. E fra i nodi da sciogliere dunque il Green Pass, al rush finale, fra 48 ore obbligatorio in bar, cinema, ristoranti al chiuso, ma anche nelle piscine. E resta la scuola il grande enigma o obbligo per gli insegnanti, ma non ci sarebbe per gli studenti. Si decide comunque dopo Ferragosto. Seguiamo Leonardo Possati. L'obiettivo del governo rimane la ripresa dell'anno scolastico in presenza e sicurezza per fare questo, non potendo per ora imporre la vaccinazione ai ragazzi. L'esecutivo vuole rendere il Green Pass obbligatorio per professori e quanti lavorano nel mondo della scuola. Nel decreto che a breve verrà varato, ci sarà dunque l'obbligo di certificazione verde per la scuola, ma non per gli studenti. Contrari alla Lega Salvini e i suoi cercano una mediazione perché il certificato verde non sia obbligatorio, diversa però la volontà del governo. Il ministro dell'Istruzione Bianca è determinato a far dimenticare la didattica a distanza, riportando tutti gli studenti in presenza da settembre. Da parte sua il generale Figliolo confida che per l'inizio dell'anno, oltre al personale scolastico, anche molti ragazzi tra i 12 e i 29 anni saranno vaccinati. Resteranno obbligatori comunque i protocolli che prevedono la distanza interpersonale e l'obbligo della mascherina. Altro nodo per il governo in vista della ripartenza dell'anno scolastico è quello dei trasporti basta bus e metro affollati. È necessario trovare un'alternativa, pensare mezzi pubblici capaci di garantire la distanza interpersonale e la sicurezza di tutti. Da ricordare che per avere il Green Pass occorre almeno una di queste tre condizioni, essere guariti dal Covid-19, aver fatto un tampone negativo nelle 48 ore precedenti, essersi sottoposti ad almeno una dose di vaccino. Mondovirus, i casi di Covid nel resto del pianeta sfiorano quota a 200 milioni, i decessi superano i 4 milioni da inizio pandemia, un bilancio segnato dal dilagare della variante Delta. Paura in Cina dopo il focolaio individuato a Wuhan, il paese del dragone, innasprisce le restrizioni sui viaggi, ferma 12 linee ferroviarie, fa scattare lockdown parziali, un aumento di infezioni alimentato dal ceppo Delta, altamente contagioso del virus. Sta interessando anche gli Stati Uniti vaccinare l'America e aiutare a vaccinare il mondo, l'appelo del presidente Biden, che ha donato 110 milioni di dosi a 60 paesi per fermare il contagio. I timori legati al Covid anche sulle Olimpiadi, nuovo record di contagi a Tocchio, con oltre 4 mila casi in 24 ore, un aumento medio del 78%, in particolare sono 29 i casi legati direttamente al villaggio olimpico, il numero più alto dall'inizio dei giochi, in totale 322 positivi, fra questi 5 atlete della nazionale greca di nuoto sincronizzato, al punto che la Grecia ha dovuto annunciare il ritiro immediato della squadra dalle Olimpiadi, segnalando al tempo stesso che le nuotatrici erano venute a contatto con altre 7 persone. Un anno fa la drammatica esplosione nel porto di Beirut, in cui morirono 207 persone, che devastò la città. 12 mesi dopo però le vittime continuano a chiedere giustizia. Il paese attraversa la più grave crisi dell'epoca contemporanea. Appello stamattina anche dal Papa che chiede al mondo aiuti concreti e confida di voler andare pellegrino in Libano. Seguiamo Marco Burini. Libano un anno dopo, Libano anno zero dopo Ground Zero. La catastrofe del porto di Beirut, 4 agosto 2020, 207 morti, oltre 7 mila feriti, è stata un'ammazzata da cui un paese pieno di risorse e vitalità, donne e uomini conosciuti nel mondo per intelligenza e intraprendenza, non si è più ripreso, sprofondando verso la catastrofe. Non stiamo esagerando. Il Libano è al collasso. Sociale, economico, istituzionale, politico. E le immagini che arrivano da Beirut sono eloquenti ed esolanti. A partire dal monumento alla catastrofe, un enorme martello da giudice arrugginito e imbrattato. Una domanda di giustizia senza risposta. L'inchiesta è ferma, secondo molti a causa di veti incrociati per evitare di far saltar fuori responsabilità politiche e amministrative. La guerra permanente della classe dirigente, un anno senza un governo, adesso ci prova il miliardario Najib Mikati, è una maledizione per una nazione che del mosaico di culture, fedi e appartenenze è stata prototipo. Adesso invece il sistema di rappresentanza, tot ai sunniti, tot agli sciiti, tot ai cristiani maroniti, è sinonimo di spartizione e corruzione che ha scatenato la rabbia della gente, a cui mancano cose fondamentali, energia elettrica, acqua e quel po' di soldi per tirare avanti. Che destino per un popolo di commercianti. Per l'Unicef, il 98% delle famiglie, cioè tutte, ha bisogno di aiuto. Provano a muoversi un po' tutti, ONU, Unione Europea, francesi. Oggi Macron presiede una conferenza internazionale. Ma bisogna aiutare il Libano a compiere un cammino di risurrezione con gesti concreti, non con parole soltanto. Ha detto poco fa Papa Francesco, che ha nel cuore il paese, vuole andarci, ma intanto lavora e prega con i capi cristiani libanesi, radunati un mese fa in Vaticano, mentre la Madonna di Harissa continua a vegliare su Beirut e tutto il Libano. Fuoco e afa, l'Italia continua a essere alle prese con le fiamme, con il gran caldo in Sardegna, all'erta alta anche oggi, cioè con codice arancione, sia nel Cagliaritano che nel centro dell'isola, per la giornata assegnata da forti venti che possono alimentare nuovi incendi, poi le temperature in rialzo che colpiscono soprattutto la Sicilia, da Trapani a Catania passando per Palermo. Anche oggi sarà una giornata da bollino rosso con la colonnina destinata a salire fino a 44 gradi, leggero miglioramento domani e dopodomani, ma già nel weekend una nuova ondata di calore sta per investire il paese. E nell'Italia, che cerca refrigerio, in spiaggia si intensificano i controlli dei carabinieri dei NAS negli stabilimenti balneari, oltre 800 i controlli eseguiti finora e relativi ai servizi sulle spiagge, nonché bar e ristoranti, per verificare le misure contro la diffusione del Covid, come ad esempio il distanziamento fra gli ombrelloni e la presenza di dispense per la disinfezione delle mani. 258 stabilimenti riscontrati irregolari, cioè il 30% di quelli controllati, 21 attività chiuse per carenze igienico-sanitarie contestate sanzioni per 200 mila euro. E siamo alla Catechesi del mercoledì. Il Vangelo non si vende a buon mercato perché è salvezza e redenzione. Così il Papa, tornato a tenere udienza dopo un mese di riposo e convalescenza, Francesco mette in guardia da quei movimenti i cui fondatori, dice, esagerano e predicano un Vangelo. Tutto l'oro. Cristiana Caricato. Entra dalla porta laterale dell'aula Paolo VI, mascherina sul volto e passo un po' incerto. Ad un mese dal suo ricovero al Policlinico Gemelli, Papa Francesco ritorna ad incontrare i fedeli al riparo dal caldo estivo. Solo la voce, ancora a fioca, tradisce la sua recente fragilità. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il sorriso, quello di sempre, accompagna la riflessione sulla lettera ai Galati di Paolo, la severità dell'Apostolo delle Genti, e spiegata dal Pontefice con il suo amore per il Vangelo e l'urgenza dell'annuncio. Una passione che lo porta ad ammonire i neoconvertiti, disorientati da nuovi predicatori, sedotti da una fede sofisticata ma non autentica. Non si può negoziare. Con la verità del Vangelo non si può negoziare. O tu ricevi il Vangelo come è stato annunciato o ricevi qualsiasi altra cosa. Paolo, chiarisce il Papa, non lascia spazio alla trattativa, non scende a compromessi quando intravede il rischio di un possibile sconvolgimento del Vangelo. La fede in Gesù non è merce da contrattare. È salvezza, è incontro, è redenzione. Non si vende a buon mercato. Parole chiare, salutari anche per la Chiesa di oggi, quelle dell'Apostolo dettate dalla volontà di annunciare la novità del Vangelo che non è una novità alla moda. Olimpiadi, nuovo successo per gli azzurri che conquistano un'altra medaglia d'oro stamattina nell'inseguimento a squadre maschili di ciclismo su pista brilla il quartetto azzurro trainato da Filippo Ganna che è riuscito a superare la Danimarca e il medagliere azzurro vanta così ben sei medaglie d'oro ma oltre al traguardo olimpico i nostri atleti hanno stabilito anche il nuovo record del mondo in inseguimento. Addio allo scrittore operaio è morto Antonio Pennacchi stroncato a 71 anni nella sua casa latina a premio strega nel 2010 con Canale Mussolini il servizio di Clara Iatosti. Era nato nel 1950 a Latina città di fondazione nell'agropontino delle bonifiche mussoliniane Antonio Pennacchi ironico, dissacrante e disincantato interprete dell'Italia del Novecento si è attento improvvisamente dopo un malore nella sua casa. Operaio dell'Alcatel Cavi Pennacchi si era dedicato alla politica attiva prima nelle file del movimento sociale da cui sarà espulso e poi in quelle del partito marxista leninista italiano. Quando dicevano che scrivi solo del passato non scrivi del presente ma i precari i precari si facessero loro il libro loro io faccio l'opera è mia come si dice ma tu scrivi solo della latina io penso che uno debba scrivere da quello che conosce. Tra gli anni 70 e 80 aveva aderito al partito socialista alla CGL e sarà ancora espulso e dalla Will nel 1983 durante un periodo di cassa integrazione si era laureato in lettere per abbracciare la carriera di scrittore il debutto nel 1995 con Mammut seguito da Palude premio strega nel 2010 con il romanzo Canale Mussolini aveva dato alle stampe nel 2003 l'autobiografico il fascio comunista che quattro anni dopo era diventato film con il titolo Mio fratello e figlio unico per la regia di Daniele Lucchetti al grande pubblico aveva fatto conoscere vicende dolorose e dilaniante un intellettuale sagace una grande passione calcistica la sua fratello e figlio unico perché convinto che Ghinaglio non può passare al prosinone e prima di chiudere vi ricordo l'appuntamento del mercoledì sera su TV 2000 con la recita del rosario oggi lo trasmetteremo dalla cripta di San Matteo nella cattedrale di Salerno la preghiera sarà guidata da Monsignor Andrea Bellandi arcivescovo di Salerno Campagna e Acerno appuntamento dunque stasera alle 20.50 su TV 2000 e con questo è tutto grazie per averci seguiti prossima edizione alle 15.15 buon pranzo e arrivederci